Tra il 2008 e il 2009 sono state 18 le nuove imprese che hanno deciso di associarsi a Confindustria. A loro è dedicato il primo Welcome Day, organizzato venerdì 12 marzo dall'associazione guidata da Monica Pirovano. La serata è stata l'occasione per discutere degli attu e dei limiti del fare imprese in Valle d'Aosta. Tra i relatori della tavola rotonda dal titolo Giovani Imprenditori, il futuro nelle vostre mani, l'assessore alle attività produttive Ennio Pastore ha ricordato gli interventi messi in campo dall'amministrazione regionale per sostenere l'imprenditorialità giovanile, prima fra tutti la legge 3 approvata nel gennaio del 2009. Sono sei le imprese che sono state interessate da questa legge, quattro che già hanno avuto il finanziamento, che hanno potuto avviare le attività e due che sono in fase di istruttoria. Ricordo però che questa non è l'unica legge, l'unico provvedimento al quale chi vuole fare impresa, soprattutto anche se è giovane, può fare ricorso. Ci sono altri strumenti, però questo è particolarmente efficace perché è molto semplice, richiede poca burocrazia, come si usa dire, e soprattutto è immediata negli effetti che dispiega. Altro intervento adottato dall'amministrazione regionale riguarda la legge sugli incubatori d'impresa. Nel 2009 la pepiniere di Aosta ha visto l'ingresso di due nuove imprese, mentre un'altra in fase di insediamento, quella di Ponce Marten, ne ha due in fase di istruttoria e una che è entrata nel 2009. Nelle pepiniere d'entreprise che abbiamo ad Aosta a Ponce Marten, la gran parte delle imprese che sono lì collocate sono imprese giovani. Ovviamente si sono collocate lì facendo in modo di presentare la loro candidatura per iniziare delle fasi di start-up, facendo ricorso a provvedimenti legislativi di sostegno, in particolare presenti nella legge 6 del 2003 oppure nella legge 84 che finanzia la ricerca. Le difficoltà dei giovani di fare impresa sono state messe in luce da Davide Bettoni, della Mavell SRL, azienda all'avanguardia che vanta tra i suoi prodotti il primo motore a propulsione ad idrogeno che attualmente vola sui cieli di Reggio Emilia, e da Oliviero Gobbi nella doppia veste di amministratore dell'ABC Company di Verreie e di presidente del gruppo giovani industriali di Confindustria. I giovani devono avere la voglia di rischiare, la voglia di mettersi in discussione e credere nel futuro. Aiutarli, si può aiutarli avendo delle norme a disposizione che siano non eccessivamente burocratiche ma un po' più snelle, che siano veloci perché i tempi di reazione in un mondo che va così veloce come oggi sono assolutamente fondamentali e dandogli una chance in qualche modo. Assieme alle aziende associate sì negli ultimi anni, Confindustria Valle d'Aosta ha consegnato anche un attestato le nuove imprese con oltre 50 anni di attività associativa e invitato i soci all'assemblea del 28 giugno prossimo che vedrà la presenza del presidente nazionale Emma Marcegaglia.